Ormai è vicino al traguardo, a 180 km da un'impresa che sembrava impossibile e che invece sta per ultimare. Antonio Marzocchi è di Partinico, ma da anni è socio della podistica Capodorlando. Per la società Paladina gareggia regolarmente, ma ai primi di agosto ha comunicato a tutti di voler sfidare se stesso. Il 5 ha indossato il suo completino ed è partito di corsa come un novello Forrest Gump. Di corsa 70-80 km al giorno per compiere il periplo della Sicilia attraverso tre statali, la 114, la 115 e la 113. Ieri sera è arrivato a Capodorlando da dove stamattina è ripartito alla volta di Cefalù. Un'esperienza unica, indescrivibile. Non si può spiegare un'esperienza del genere. Perché è proprio un viaggio all'interno della tua terra. Cioè vedi i posti, la Sicilia che per me è il posto più bello del mondo e poi facendolo correndo è una cosa esclusiva. A me piace correre. Poi mi piace anche, mi piace tanto la Sicilia, la mia terra, sono proprio territoriale. E quindi volevo scoprire, la volevo conoscere, visitare. E quindi ho abbinato le due cose e ho deciso di farla a piedi. E quindi siamo partiti. Il nostro orgoglio lui ha fortemente voluto tesserarsi con la nostra società. E avere un atleta, un ragazzo che decide di fare un'impresa del genere che è unica per come è stata impostata. E veramente ci rende orgogliosi. E forse ha aperto una nuova strada, una strada dei cammini che sono tipici in altre parti del mondo. Ma chissà, attraverso la sua impresa se non è sprone ad altri atleti, ad altri camminatori. Nel DNA della podistica avere atleti che fanno cose estreme, gare estreme? Sì, però lui ha superato tutti, devo dire. Forse non solo nella podistica, ma comunque in Sicilia.